Che cosa succede se chiedo ai miei iscreti di disegnarmi? Non ne ho idea, quindi farò questo esperimento. Voglio sfidarti, prova a fare un disegno di me. Sono accolti sia gli artisti incredibili di fama internazionale che hanno fatto roba tipo questa, ma anche chi non sa disegnare, tipo lui. Dio mio che brutto! Sono accettati disegni belli, disegni brutti, render 3D, statue, quadri, disegni su paint, mi raccomando, siate creativi! Quando hai il disegno pronto, mandalo a poldovideo.com Ci vediamo fra un po' di tempo sul canale.